Blasioli, lei critica, contesta la politica della regione per quanto riguarda le zone rosse, tra l'altro il 19 di aprile scadrà la zona rossa nell'area Vestina. Sì, non è la prima volta che intervengo su questo aspetto per denunciare ancora una volta l'abbandono completo delle zone rosse sulla regione Abruzzo, non soltanto la Valfino ma anche la Vestina, quindi Montebello, Civitella, Farindola e Penne, Picciano ormai non c'è più. Tra l'altro il 19 di aprile scade la seconda proroga della zona rossa e non sappiamo, nonostante ormai siamo agli sgoccioli, se c'è un nuovo documento dell'ASL che chiede la proroga ancora per questi comuni o se invece terminerà il 19 di aprile, mentre non possiamo che registrare il consueto abbandono di questa zona importante della provincia di Pescara. Non ci sono stati tamponi promessi dal Presidente Marsiglio, tamponi per tutti, noi chiedevamo intanto tamponi per i sanitari, per la protezione di civile e per chi aveva piccoli esercizi commerciali ed era a contatto con la popolazione, nulla di nulla, né per i primi né per i secondi e il 19 di aprile scade appunto la zona rossa. Ma soprattutto l'uscita di ieri del Presidente del Consiglio regionale, Sospiri, è veramente raccapricciante. Sospiri chiede che per la Valfino, quindi non per tutta la zona rossa, solo per la Valfino, invece va chiesta per la Valfino e per l'area Vestina naturalmente, come per la contrada Caldari di Ortona, chiede aiuti al Governo, quando invece proprio la legge regionale votata il primo di aprile dalla Regione Abruzzo, in cui il Presidente del Consiglio è proprio Lorenzo Sospiri, prevede aiuti per le zone rosse, che ad oggi non sono stati ancora determinati, né nel quantum né nell'attingimento delle risorse. Insomma una confusione totale, ancora una volta si cerca di fare politica buttando tutto sul Governo, che invece è molto attento in questi giorni, e le zone rosse rimangono comunque abbandonate, rimangono comunque abbandonate le famiglie, i piccoli imprenditori di questa zona, non c'è stata neanche un'armonizzazione delle regole che noi avevamo chiesto, dopo che la Regione ha buttato sui sindaci le deroghe da caratterizzare nel territorio. L'ultima uscita, quella del sindaco di Penne, che chiedeva tamponi ancora una volta, mi sembra che sia la vera esigenza avvertita in quella zona. A quattro giorni dalla scadenza di tamponi non si è vista assolutamente nulla. Secondo lei le zone rosse dovrebbero essere prorogate? Guardate, io su questo aspetto già ho avuto modo di dire. Intanto il 18 di marzo, quando è stata determinata la prima zona rossa alla Valfino, la ASL di Pescara chiedeva che la zona rossa riguardasse anche l'area vestina, e purtroppo non è stata zona rossa dall'inizio. Sono dovuti rintervenire successivamente, anche dopo una lettera che ho fatto al signor Prefetto, il 25 di marzo. Poi c'è stata una nuova proroga. Non sappiamo se questa proroga è stata documentata con uno studio nuovamente prodotto dall'ASL di Pescara. Lo abbiamo chiesto, siamo in attesa di riceverlo. Per cui su questo aspetto io ritengo che dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono dall'ASL. Certo, ieri non ci sono stati nuovi contagi, se non uno nella zona di Penne, questo lascia presagire che qualche allentamento ci potrebbe essere. Però la politica in questo caso deve seguire le indicazioni che vengono dall'ASL.